Siamo molto soddisfatti per tutto quel che abbiamo realizzato anche nell'ultimo anno e anche negli anni precedenti. Siamo arrivati ad una raccolta di libretti della solidarietà considerevole, quasi un milione di euro abbiamo fatto di raccolta di libretti della solidarietà e finanziato progetti per le associazioni e il sociale per 1.220.000 euro. È stata veramente eccezionale l'idea che è stata messa in pratica e accettata poi dalla BCC, concedere prestiti a tasso zero era inaspettata. Ci hanno seguito, 1.200.000 euro di prestiti a tasso zero, può capire quando viaggiamo su tassi del 7, 8, 9% quanti soldi hanno risparmiato le associazioni. E altrimenti non avrebbero potuto fare quel che hanno fatto. Tutto quel che riguarda la persona è al centro del nostro interesse. Siamo partiti con il prestito sociale alle famiglie, ai bisognosi, per pagare le bollette dove non riescono. Naturalmente non facciamo donazioni, ma sono prestiti, vanno restituiti in piccole rate per le famiglie. Le associazioni invece approfittano di questo per costruire quello che sarebbe impossibile.